Perché la zebra ha le strisce? È imbrazzante. Ehi! State attenti. Succedeva questo? No, è diverso adesso. Paul! Mi sei passato per la testa di recente. Come mai? Continui a comparire nei miei sogni. Non fai niente, sei solo lì. Stiamo dicendo che una persona precisa... un tipo qualunque? Anche a me è successa la stessa cosa. Hai una sua foto? Scusami, mi hai sognato ultimamente? Mi stai chiedendo se ti ho sognato? Sì. Ci sono tipo 100 messaggi e qualcuno mi vuole intervistare. È molto strano. Forse dovresti riflettere un attimo prima di fare qualcosa di avventato. Perché io... Non lo so, forse perché sono speciale. Come ci si sente a essere virali? Chi di voi ha fatto un sogno in cui c'ero io? Mi stai facendo paura, Paul. Avrò gli incubi. Vorrei essere io quello nei sogni della gente. Anche io. Spero di comportarmi bene nei tuoi sogni. Oh no. Per niente. Alla fine sono figo, eh? Non è quello che ho detto. Hai sentito, Jelen? Ha detto che sono un papà figo. Penso che tu stia scherzando col fuoco. Diventare famosi comporta degli effetti indesiderati. Meglio prepararsi. Forse dovremmo lasciar calmare le acque. Cosa? Che vuoi dire? È imbarazzante. Quale parte? Immagino che... che ci vedremo nei miei sogni. Ah, sì. Cioè, spero di no. Oh. Grazie a tutti.